Eccoci qua, questo sono io nella mia cameretta in Australia, praticamente la prima settimana ho vissuto in un ostello e nel frattempo cercavo case in giro per Sydney, io sono arrivato qui, tra l'altro lì la metro funziona veramente da dio, costa perché costa, però funziona veramente da dio, sono arrivato qui, ho preso il trenino e sono arrivato direttamente in centro Sydney, questo è il centro di Sydney, questo qui, in questa insienatura dell'oceano. L'ostello ce l'avevo qua fuori dalla stazione, vediamo se c'è ancora, dovrebbe essere qui, eccolo qua, sono stato in questo ostello qui, mamma che ricordi, per una settimana più o meno mentre cercavo appartamenti, io mentre cercavo appartamenti quella settimana li cercavo principalmente nel centro perché semplicemente volevo essere al centro, volevo essere, volevo almeno per quel periodo, magari vivevo con 65 persone, però volevo riuscire a spostarmi ovunque volessi, volevo essere vicino a qualsiasi mezzo, volevo essere vicino a dove succedono le cose, insomma ho deciso di stare in questa posizione qui, se fossi stato fuori da questo qui che è il centro di Sydney, ora non so se lo vedete bene però è questo qui, se fossi stato un po' più fuori magari a North Sydney o comunque attorno avrei sicuramente risparmiato qualcosa ma non così tanto anche perché comunque vivevo in queste condizioni qui e quindi per la modica cifra di 200 dollari australiani a settimana, che sono 800 dollari australiani al mese, che sono circa 500 erotti euro al mese, vivevo esattamente qui, a fianco alla stazione, alla stazione di polizia in questo stabile qua. Adesso ve lo faccio vedere, lo stabile era veramente 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 bello, eccoci qua, questo stabile qui e noi avevamo una di queste due finestre qui, era veramente bello, però qual era il problema in tutto questo? In tutto questo il problema è che eravamo in un bilocale da 70 metri quadrati con due bagni, eravamo in 8 ed eravamo in sub sub affitto, quindi c'era il proprietario che affittava a una persona che aveva riaffittato a un altro property manager e questo property manager totalmente illegale probabilmente però nessuno sa niente, affittava le camere a letto ad altre x persone. Io ero una di quelle x persone e questa è la mia bella foto nella mia brandina perché per 8 mesi sono rimasto in una brandina, io dormivo qui, questo era parte del mio armadio, dall'altra parte della camera avevo un altro armadio, qui c'era un filippino, il filippino tra l'altro ha perso una cifra come 50 bitcoin e stava bestemmiando all'epoca ed è così che ho conosciuto bitcoin nel 2017 perché questo filippino che era qui aveva seguito tutta la rally di bitcoin, quei bitcoin li aveva comprati per fare cose nel deep web, cavoli suoi, però non riusciva più ad accedere al wallet e quindi questo ragazzo con l'apice del 2017 aveva 50 bitcoin che non riusciva, vedeva l'indirizzo perché sapeva qual era il suo indirizzo però non aveva perso le chiavi private che si era scritto in un pezzo di carta, ogni settimana quest'uomo passava come minimo un'ora a cercare, forse anche di più, a cercare questo maledetto pezzo di carta penso di averlo visto, guardare, cercare in ogni singolo cappello della casa e così ho conosciuto bitcoin tramite questo ragazzo filippino sopra, questo è un letto a castello, sopra ci ha vissuto per un periodo, perché poi cambiavano le persone il ragazzo filippino è quello che ho visto sempre, gli altri poi ogni tanto cambiavano ho visto passare dentro due francesi, due cinesi, un tipo del Taiwan, dal Taiwan, non so come cavolo si dica che questo qui faceva lo street footballer, praticamente per strada faceva le acrobazie calcistiche, palleggiava e guadagnava da vivere la cosa più, che mi ha lasciato tipo più a bocca aperta tra tutte le persone che ci hanno vissuto dentro a parte il fatto che eravamo in un appartamento a 70 metri quadrati in 8, quindi 3 in questa camera 3 in un'altra camera, la camera a fianco, quella con bagno e 2 in soggiorno, perché il tipo che sub sub affittava ha avuto la brillante idea di dire qui ci stanno due letti, mettiamo due pezzi di cartongesso, ma proprio cartongesso quelli lì smontabili quelli lì che se tu tocchi la parete viene giù tutto, cioè tipo i divisori e lì ci dormivano altre due persone, che in realtà erano le due tra virgolette camere migliori perché entrambe avevano la propria privacy, mentre noi eravamo in camera in 3 e 3 la cosa più interessante di tutte le persone che hanno vissuto dentro quell'appartamento al di là dello street footballer wow, erano i due ragazzi cinesi i due ragazzi cinesi erano lì perché studiavano in università, l'università di Sydney una dell'università di Sydney era molto vicina a quell'appartamento, raggiungibile a piedi e quindi vivevano lì, ma le prime due settimane quando sono arrivati questi due ragazzi cinesi sono arrivati con la mamma, erano miei coetanei e sono arrivati con la mamma che per quelle due settimane li ha aiutati da ambientarsi gli ha insegnato come cucinare, gli ha insegnato come farsi il letto gli ha insegnato come fare qualsiasi cosa perché era sempre lì che gli spiegava cose e che gli faceva vedere cose poi quando se n'è andata il delirio, cioè proprio il delirio cioè proprio che non... ho capito tutto ma... l'ABC della vita l'ABC della vita, un delirio quando è andata via la mamma di questi due ragazzi cinesi è scoppiata, la loro camera è scoppiata fortuna che in quella camera non c'ero io fortuna, è proprio scoppiata poi quando cucinavano perché la cucina era in comune era proprio un delirio un delirio, un delirio infatti quello che facevo io per cercare di passare in cucina il minor tempo possibile soprattutto a cucinare perché era un delirio la cucina provate ad immaginarvi otto uomini di cui tutti di provenienze diverse con sapori diversi, con profumi, fragranze diverse provate a immaginare che fragranza c'era in quell'ostia di cucina quindi io andavo a lavorare tutto il giorno quindi il pranzo lo facevo fuori e il pranzo, tutti i pranzi me li cucinavo la domenica so che è bruttissimo ma per risparmiare prendevo mezzo chilo di pasta e per quella settimana tutti i mezzogiorni mangiavo 100 grammi della stessa pasta una settimana era pasta con il tonno la settimana dopo era pasta col pesto la settimana dopo era pasta al pomodoro la settimana dopo ancora era un altro tipo di pasta però per risparmiare facevo così considerate che io a settimana e ho tutti i budget ancora per riuscire a risparmiare il più possibile di quello che guadagnavo lì e poi parliamo anche di quanto guadagnavo a settimana spendevo 80 dollari australiani che sono circa 55 euro più o meno a settimana di cibo qualsiasi cosa di cibo era 80 dollari a settimana tutto colazione, pranzo, cena e anche facevo un'uscita fuori l'affitto come vi dicevo mi costava 200 dollari a settimana e riuscivo a risparmiare molto più del 50% di quello che guadagnavo che era uno dei miei obiettivi e quindi su quello andavo perfetto perché in Australia comunque rispetto a quanto spendi perché la vita costa di più in generale costa tutto di più affitti, trasporti, servizi costa tutto di più però guadagni molto di più quello che dico io alle persone che mi chiedono quanto si guadagna in Australia come sei stato in Australia eccetera 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 gli dico se in Italia spendi uno e guadagni uno in Australia per mia esperienza poi sono stato lì quattro anni fa quindi le cose potrebbero essere cambiate per mia esperienza comunque in Australia spendi sì uno e mezzo perché spendi di più dell'Italia però guadagni due e quindi c'è uno scompenso che poi ti permette di toglierti più sfizi magari anche di vivere meglio e soprattutto di risparmiare di più